L'Abruzzo ha i numeri da zona gialla ma resta in arancione per la scarsa efficienza del sistema di monitoraggio e quanto emerso dal rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sull'analisi dei numeri della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio. Seppur attualmente il tasso d'occupazione ospedaliero è in area medica il più alto d'Italia, oltre il 37%, in terapia intensiva è in discesa al 15,6%, ben al di sotto della soglia limite del 20%. Il motivo di un'altra settimana di zona arancione è che i dati regionali sono arrivati in ritardo. Per l'Istituto Superiore di Sanità il rischio in Abruzzo non è valutabile e quindi di default è equiparabile al rischio alto. Allo stesso livello ci sono anche Calabria, Liguria e Sicilia. La Sardegna è a rischio moderato, mentre tutte le altre regioni sono considerate a rischio basso. Ad oggi in Abruzzo di Covid esiste solo quello Omicron. La nostra è tra le 11 regioni dove questa variante ha un'incidenza del 100%, mentre quella delta è scomparsa. Omicron, come ritengono gli esperti, è super contagiosa ma ha una sintomatologia meno aggressiva, tant'è che alcuni si sbilanciano sostenendosi all'ultima fase della pandemia. L'elaborazione della Fondazione Gimbe sui dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, aggiornata all'8 febbraio, sembra confermare questa valutazione. Infatti la situazione nelle terapie non intensive degli ospedali desta preoccupazione, ma i ricoveri nelle rianimazioni sono sempre meno. Ovviamente però contro lo sviluppo della malattia bisogna tener conto anche dei numeri della campagna vaccinale. Il 60,5% degli abruzzesi ha ricevuto la terza dose, mentre vi è ancora un 16% no-vax o non idoneo. In Abruzzo l'indice di trasmissibilità RT è a 1,04, la media nazionale è a 0,89. Da ieri è iniziato il percorso deciso dal governo Draghi riguardo l'allentamento delle restrizioni che terminerà il 15 giugno con la scadenza dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Il giro di boa sarà il 31 marzo, quando terminerà lo stato di emergenza e cadrà l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso. Da ieri intanto le mascherine possono non essere indossate all'aperto e questo sarà il primo weekend in cui si potrà tornare a ballare in discoteca. La capienza però è ridotta al 75% per le discoteche all'aperto, al 50% per quelle al chiuso.